Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Anna e Marco. Se vi interessa la vita all'estero, in particolare in Inghilterra, iscrivetevi al nostro canale. Vi mostreremo le nostre avventure di italiani espatriati e tutto quello che troviamo interessante in questo bellissimo paese. Pubblicheremo un video circa ogni 10 giorni. 15 giorni. Ok, 15 giorni. Ciao! Ciao!